La PEC, che è il sistema di posta elettronica certificata, aiuta a smaltire un po' di tutta quella burocrazia dei giorni d'oggi. Con una PEC noi possiamo per esempio inviare dei documenti, anche dei reclami e così via, come se fosse una raccomandata con ricevuta di ritorno, per essere molto concreti. Quindi la PEC sostituisce questo sistema di certificazione dell'invio e quindi ha valore legale. Per chiedere una PEC si va su un sistema qualsiasi, si trovano su Google tranquillamente digitando come attivare una PEC, si acquista, quindi pagando, il costo è mediamente dai 5 ai 10 euro all'anno, quindi è molto conveniente. Ci si deve registrare naturalmente, si deve compilare dei moduli inserendo i nostri dati, sottoscrivere il servizio e dopo pochi minuti la PEC è pronta. Da questo punto di vista non vi sono dei servizi che vi consigliamo rispetto ad altri, l'importante è naturalmente che la PEC che andate a sottoscrivere sia da un'azienda di servizi italiana.